Schifato, indignato, come l'anno scorso, ha un rigore regalato all'Atletico Madrid, quest'anno sembrava di essere su scherzi a parte, una mano sulla spalla, va addirittura a calciare, calcio di rigore, rosso diretto. Di che cosa vogliamo parlare? Volete ancora parlare di questa partita? Di che cosa volete parlare? Non c'è niente da parlare, non c'è stato il crucco, voglio vedere se arbitrarà ancora il crucco. Meno male che lo dicono tutti, mi stanno scrivendo tantissimi amici della Juve, dell'Inter e di altre squadre dicendomi che è uno scandalo, che è uno scandalo, meno male, perché poi sembra che siamo sempre noi a lamentarci, a rompere i coglioni. Comunque ha pareggiato Salisburgo-Dinamo-Zagabria, noi dobbiamo fare due vittorie, altrimenti siamo fuori. Questa partita me la volevo giocare alla pari, poi si poteva perdere lo stesso e io accetto le sconfitte, ma alla pari, non in questa maniera indegna. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio da Gerry.